Primo quarto di finale si sale di Caterpia, Cavaleri Tezzastella, Oriente, Cavaleri Andrea che dice vado io davanti, seguitemi, che vi porto nella semifinale e in seconda posizione atleta del Vesnate. Vediamo la stella ma c'è anche Tezza Filippo, Cyclomania Racing in terza posizione anche lui dentro la semifinale. Il nostro Tezza Filippo.